Buongiorno ragazzi e benvenuti a festa di scienza e di filosofia. Quest'anno la festa è particolarmente ricca. Abbiamo circa 110 conferenze. Ieri ne sono state tenute otto come prima giornata, oggi ne avremo un'altra ventina e così sabato e ancora domenica il numero delle conferenze aumenterà. Innanzitutto dopo questo saluto e questo benvenuto alla festa vi presento il professor Silvano Tagliagambe e chi vi parla è Mario Tei, un collaboratore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Voi sapete che la festa è organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali e quest'anno i temi, diciamo, della festa riguardano il cervello e la mente, dialettica fra scienza e filosofia e una scienza per l'uomo e la scienza, lo strumento del ventunesimo secolo. Detto questo passiamo a presentare il professor Tagliagambe. Silvano Tagliagambe ha studiato filosofia alla Statale di Milano come allievo di Ludovico Geimonat che vi ricordo è il più grande filosofo scienziato che abbiamo avuto nell'ambito, il più grande filosofo, nell'ambito della filosofia della scienza. Geimonat era così interessato alla scienza che lui studiò per parecchi anni anche in Germania e essere stato allievo di Ludovico Geimonat, vi ricordo dei libri bellissimi tanto per citare, no? La storia della scienza e della filosofia, Garzanti editori, che ancora è un testo penso ineguagliabile dal punto di vista della collaborazione, del contenuto soprattutto che è all'interno di questi libri. Il professore ha preso la laurea naturalmente con la lode e prosegue i suoi studi specializzandosi in fisica quantistica. Qualcuno di voi sicuramente avrà avuto modo di ascoltare il professore su temi della fisica quantistica perché grazie al professore noi del laboratorio ci arricchiamo tantissimo con le relazioni e diciamo la capacità di esporre gli argomenti soprattutto su un tema così impegnativo come è la fisica quantistica. Ha proseguito i suoi studi presso l'università di Musca, l'Omonosov, dove si è specializzato ulteriormente sempre in fisica quantistica. È professore da parecchi anni, professore ordinario di filosofia della scienza, è stato professore ordinario in varie università e oggi professore merito presso l'università degli studi della sapienza di Roma. Vi dico subito che parlare dell'attività e del professor Tagliagambe porterebbe via una conferenza a parte per cui cerco di essere più conciso possibile in maniera tale di passare la parola su un tema così interessante come quello scelto dal professore. Il professor Tagliagambe è autore di numerosi libri di pubblicazione, un elenco che richiederebbe naturalmente una conferenza a parte. Citiamo un test importante per la scuola perché è uno degli ultimi, non l'ultimo, che ha realizzato nel 2012 è quello relativo a una riedizione del libro di Geimonat che è La realtà e il pensiero, la ricerca filosofica e scientifica, che è un libro che ha scritto, che ha rivisto anche con la collaborazione del professor Boncinelli. Sempre nell'ambito della scuola mi fa piacere ricordare la collaborazione con il professore perché è un sostenitore della scuola attiva, quindi una cosa che vi interessa a tutti e ci insegna spesso che nei nostri incontri che il costruttivismo o il costruzionismo come preferisce chiamarlo, è un concetto fondamentale per una scuola che attivi e faccia partecipe l'alunno del proprio apprendimento. Questo è un tema che è all'ordine del giorno perché tra l'altro oggi si parla di apprendimento individualizzato e questo è un elemento molto importante. Ma passiamo subito alla conferenza del professore che è la visione e lo sguardo. Viaggio attraverso la filosofia, la scienza, la letteratura e l'arte. Ecco, è un tema così trasversale che io credo di estremo interesse per tutti e quindi do la parola al professore. Grazie professore ancora. Grazie, grazie a voi. Dunque, il problema che voglio sottoporre alla vostra attenzione è il fatto che non esiste attività dell'uomo che non contempli la mediazione di un linguaggio, che quindi anche l'osservazione, il vedere, richiede il riferimento a un ben preciso linguaggio che ha caratteristiche fondamentali, la grammatica del vedere, come l'ha chiamata Canizza, Gaetano Canizza, uno psicologo di cui avremo modo di parlare ancora e che l'ha studiata in maniera approfondita. E le caratteristiche di questo linguaggio vanno tenute ben presenti se si vuole capire appunto che cosa significa vedere, che cosa significa osservare. Tanto per introdurre il tema vi propongo una storia vera che è stata raccontata da un matematico inglese nel 1880, il matematico si chiamava Hamilton, era un matematico importante, che racconta quello che successe a un suo amico che era andato a partecipare a una battuta di caccia grossa in Africa, accompagnato da una guida. Davano la caccia ad un leone. l'inglese, pensando al leone, alle sue caratteristiche, cercava di guardare attentamente la superficie lungo la quale camminavano. A un certo punto la sua guida gli disse attenzione, ecco il leone. L'inglese guardò attentamente, non aveva visto nessuna traccia dell'animale e la guida gli disse guardi verso l'alto e l'inglese rimase stupefatto, guardare verso l'alto per ritrovare le tracce di un leone. Che cosa vede? Vedo un volo di avvoltoi che si stanno muovendo in circolo e che cosa ne deduce? Quindi vedo avvoltoi. Che cosa ne deduce? Che evidentemente sotto a terra in direzione perpendicolare rispetto al volo degli avvoltoi c'è la carcassa di un animale appena morto sui quali gli animali, gli avvoltoi vogliono precipitarsi. E secondo lei che cosa li frena? Che cosa gli impedisce da farlo ora? Il fatto che colui che ha ammazzato l'animale, e cioè il leone, sia ancora lì accanto alla sua preda. Ecco il leone. Questo aneddoto ci fa capire la complessità del vedere. In questo caso il vedere, vedere il leone, è il risultato di un'osservazione verso l'alto, quindi di un processo induttivo. In secondo luogo di una deduzione da ciò che vediamo verso l'alto, presenza degli avvoltoi, deduciamo, visto che conosciamo le abitudini di questi animali, che lì in basso ci sia la carcassa di un animale, e in terzo luogo ipotesi abduttiva, il fatto che gli avvoltoi non si precipitino come loro costume e come loro desiderio sulla loro preda, fa intuire che c'è qualcosa che fa loro paura. E questo qualcosa non può che essere l'animale che ha sbranato la loro preda. Quindi la visione è fatta, vedere il leone, è fatto di un processo che contempla induzione, cioè generalizzazione dell'osservazione, deduzione, cioè capacità di ricavare da una osservazione, da premesse generali, una conclusione, e abduzione. E siccome induzione, deduzione e abduzione sono gli strumenti fondamentali con i quali noi pensiamo, questo semplice aneddoto ci fa capire una cosa fondamentale, che ciò che chiamiamo il vedere non è semplicemente la percezione osservativa che noi abbiamo generalmente in mente, ma è anche un vedere astratto, un vedere con la mente, appunto, che coinvolge gli strumenti fondamentali con i quali noi normalmente pensiamo, cioè induzione, deduzione, abduzione. E questo è un primo aspetto di cui dobbiamo tener conto quando parliamo di vedere. Il secondo aspetto è il contributo fondamentale che al vedere dà il potenziamento ottenuto con la tecnologia, attraverso la tecnologia. Come sapete della tecnologia in Italia e nella cultura italiana si dice tutto il male possibile, le si attribuiscono tutti i mali generali dell'umanità, la tecnologia però, come appunto sottolineava fondamentalmente e insistentemente Ludovico Gemolat, se la si interpreta correttamente, è pensiero e soprattutto pensiero critico. E per dimostrare questo assunto, per non lasciarlo come una cosa detta e non argomentata, prendiamo in esame quello che è successo nel 1610. Nel 1610 Galileo Galilei elabora e perfeziona questo strumento, il canocchiale, che era stato creato e sviluppato nel 1608 da ottici olandesi. Così come era arrivato nelle mani di Galileo, però questo strumento era tutt'altro che perfetto. Infatti permetteva certamente di ingrandire le forme verso le quali era diretto, anche di un numero notevole di volte, ma sgranava le immagini, quindi le rendeva poco visibili. E questo richiese da parte di Galileo una correzione notevole che venne effettuata con l'ausilio degli artigiani dell'arsenale di Venezia. E quindi l'apporto fondamentale non solo della tecnologia, ma della tecnica, della capacità tecnica, di quella capacità tecnica appunto di cui Galileo si valse per molti aspetti della sua attività. Che cosa riusci a fare Galileo ce lo dice lui stesso nell'opera a cui dedicheremo la nostra attenzione, che è il Siderius Nuncius del 1610, opera rivoluzionaria per tantissimi aspetti come vedremo, e nella quale Galileo introduce per prima cosa il protagonista della sua ricerca, cioè appunto il canocchiale. Si procurino in primo luogo un canocchiale perfettissimo, il quale rappresenti gli oggetti chiari, distinti e sgombri di ogni caligine, e che li ingrandisca di almeno 400 volte, che se tale non sarà lo strumento, in vano si tenterà di osservare tutte quelle cose che da noi furono viste nel cielo e che più oltre saranno enumerate. Quindi doveva ingrandire 400 volte. E che cosa fece Galileo, oltre a perfezionare lo strumento? Lo puntò verso il cielo, e in particolare verso la luna, e quello che vide non si limitò appunto a vederlo, ma ritenne di doverlo farlo vedere anche agli altri, attraverso immagini da lui stesso compilate in modo estremamente dettagliato e scrupoloso, e che sono tutt'oggi considerate delle vere e proprie opere d'arte. Immagini che corredano le 60 pagine che in totale rappresentavano lo scritto del Siderio Snuncius. Ecco che cosa vede, ed ecco queste sono le immagini che Galileo stesso curò, di cui curò la trascrizione, e che rappresentano la luna sotto diverse condizioni di illuminazione da parte del sole. E come vedete soprattutto nell'immagine con lo sfondo nero, la luna presenta caratteristiche che sono in contrasto netto con quello che la filosofia e la scienza del tempo ci diceva dei corpi celesti. Come vedete la luna si presenta con delle increspature, con delle altitudini, con delle buche, e quindi con una superficie assolutamente simile a quella della Terra, e che contrasta con l'idea aristotelica che i corpi celesti fossero delle sfere perfette e totalmente lisce. Quindi Galileo vede che le cose non stanno come la scienza del suo tempo e la filosofia del suo tempo dicevano, e quella che è la cosa importante è che al resoconto scientifico che fa nel Siderio Snuncius accoppia per la prima volta un resoconto per immagini, il pensiero visivo, quindi osservazione, calcolo matematico e pensiero visivo. E questo pensiero visivo è talmente importante per lui che ritiene che lo si debba estendere non soltanto agli scienziati, ma a tutti coloro che vogliano vedere con i propri occhi come stanno effettivamente le cose. Al punto che la preoccupazione fondamentale di Galileo diventa quella di generalizzare l'uso del canocchiale in modo da permettere al senso comune, quindi anche agli uomini che non fanno parte della cerchia degli scienziati, di vedere le stesse cose disponibili agli occhi degli scienziati. E infatti nel Siderio Snuncius a un certo punto dice, parmi necessario, oltre alle altre circospezioni, per mantenere e aumentare il grido di questi scoprimenti, il fare che con l'effetto stesso sia veduta e riconosciuta la verità da più persone che sia possibile. Vedete, la scienza non deve essere qualche cosa a disposizione di un ristretto numero di scienziati, ma deve diventare qualche cosa che informa e rivoluziona il pensare comune. Il che ho fatto e lo facendo in Venezia e in Padova, ma perché gli occhiali esquisitissimi, cioè i canocchiali, è atti a mostrare che tutte le osservazioni che ho fatto io stesso sono molto rari e io tra più di sei fatti con grande spesa e fatica non ne ho potuti eleggere se non piccolissimo numero, però questi pochi avevo disegnato di mandarli a grandi principi, ai medici e ad altri reali, ai quali prima gli manderò insieme con il trattato, ma il suo desiderio è appunto di sporre di fondi che gli permettano di costruire molti canocchiali in modo che tutti abbiano la possibilità di vedere quello che lui stesso aveva visto. Questa lezione di Galileo diventa particolarmente importante e segna, a parte appunto le conseguenze che voi conoscete benissimo sulla sorte dello stesso Galileo, un'autentica rivoluzione culturale di cui si rendono conto gli scienziati immediatamente, ma si rendono conto anche i poeti, sia pure più tardi. Nel 1813 in una sua opera giovanissima la storia dell'astronomia, Giacomo Leopardi comprende tra i primi quale può essere il senso per la poesia e la letteratura delle scoperte di Galileo e dedica a queste scoperte un'attenzione particolare e questa attenzione lo porta a cercare di capire qual era il significato profondo della rivoluzione di Galileo. Grazie all'uso del canocchiale, Galileo aveva impostato una strategia dello sguardo che aveva permesso di fare una cosa che Leopardi giudica straordinaria, e cioè vedere non soltanto con gli occhi della mente, ma anche vedere con gli occhi dell'immaginazione e costruire una nuova forma di alleanza tra la percezione visiva e l'immaginazione dei poeti e degli artisti. Cioè sostanzialmente quello che Leopardi mette in evidenza è che Galileo ha operato una dilatazione dello sguardo grazie alla quale ci si è resi conto dell'importanza fondamentale dell'allargamento della visione. L'allargamento della visione diventa occasione per nuove scoperte ma anche per nuove immaginazioni poetiche e letterarie. E questo induce Leopardi nello Zibaldone, precisamente nella giornata del 30 novembre 1828 compilata a Firenze, a ipotizzare e teorizzare quella che da quel momento in poi venne considerata la teoria della visione doppia di Leopardi, che Leopardi espone in modo molto chiaro appunto nello Zibaldone. All'uomo sensibile e immaginoso che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo e immaginando, quindi percependo e immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrò con gli occhi una torre, una campagna, udirà con gli orecchi un suono di una campana e nello stesso tempo con l'immaginazione, vedrà un'altra torre, un'altra campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di oggetti, cioè gli oggetti visti con l'immaginazione, sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Triste quella vita, ed è pur tale la vita comunemente, che non vede, non ode, non sente, se non che oggetti semplici, quelli solo di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti, ricevono la sensazione. Quindi la vita di chi sta alla percezione visiva e al senso della realtà che la percezione visiva ci trasmette è trista, dice Leopardi. Piacevole e degna di essere presi in considerazione è invece la vita di coloro che sanno nutrire la loro vista con l'immaginazione e che quindi hanno una visione doppia, la visione di ciò che c'è effettivamente, senso della realtà, nutrita e arricchita da ciò che si può immaginare, cioè da quello che possiamo chiamare il vedere e il pensare altrimenti, cioè il vedere attraverso gli occhiali dell'immaginazione. E questo tipo di visione che ci permette di vedere attraverso gli occhiali dell'immaginazione è fondamentale perché realizza l'autentica unità dell'uomo che è a sua volta un essere doppio. La doppiezza dell'uomo, cioè il suo carattere duale, sta nel fatto che l'uomo ha e non può che avere i piedi ben piantati per terra, altrimenti non riuscirebbe ad affrontare le sfide della vita, ma agli occhi costantemente rivolti verso il cielo. E quindi l'uomo è la convergenza di capacità di stare ancorato al senso della realtà, piedi per terra, e dall'altra parte però capacità di guardare il cielo, osservarlo e cercare di capire, come aveva fatto appunto Galileo, che cosa ci può essere in quello spazio infinito. E la capacità di vedere con l'immaginazione è tale che sostituisce le ali e permette all'uomo di raggiungere il cielo e l'infinito. Come Leopardi dice splendidamente nel suo canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Forse s'avessi io l'ale da volare sulle nubi, annoverare le stelle ad una ad una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia gregia, più felice sarei, candida luna. Ma questa mancanza di ali può essere appunto sopperita dallo sguardo attraverso l'immaginazione. E qui si innesta un problema estremamente interessante e significativo, che è il problema della trasfigurazione dello sguardo e della strategia dello sguardo. Problema che viene teorizzato in maniera estremamente significativa dai rappresentanti della spiritualità orientale, l'impero bizantino e la cultura russa ortodossa, che interpretano in maniera significativamente diversa un passo del Vangelo rispetto alla tradizione cattolica, un passo del Vangelo quello che racconta di ciò che è successo sul monte Tabor. Come sapete sul monte Tabor, secondo il Vangelo, Gesù si recò con alcuni dei suoi più fedeli discepoli e dice il Vangelo sul monte Tabor, per la prima volta Gesù Cristo si rivelò agli Apostoli nella sua duplice natura umana e divina. E la Chiesa Cattolica interpreta questi versi del Vangelo dicendo che sostanzialmente Gesù Cristo, che si era sempre manifestato fino a quel momento nella sua semplice natura umana, per la prima volta sul monte Tabor si manifesta anche nella sua natura divina. I teologi ortodossi non sono d'accordo con questa interpretazione, nel senso che dicono Gesù Cristo fin dalla sua comparsa sulla terra si è manifestato sempre in questa sua duplice natura umana e divina. Il problema di fondo è che l'occhio dell'uomo e dei suoi discepoli era capace di percepire soltanto la sua natura umana e non quella divina. Che cosa fa Gesù sul monte Tabor? Trasfigura lo sguardo dei suoi discepoli, cioè amplia la capacità di visione dei suoi discepoli, degli Apostoli e permette loro di vedere per la prima volta accanto alla natura umana la natura divina. E la teologia ortodossa chiama luce taborica, luce del monte Tabor, la luce che permette appunto all'occhio di assumere questo potenziamento e quindi di vedere oltre il finito, di vedere per la prima volta l'infinito. E la luce taborica ha un'importanza talmente fondamentale che i pittori di icone, le icone come sapete sono le modalità di rappresentazione del sacro all'interno della cultura bizantina e della chiesa ortodossa russa, si dovevano esercitare per molti anni prima di poter passare a dipingere effettivamente tavole nella capacità di rendere la luce taborica. La luce cioè capace di mettere il fedele in condizione di vedere l'infinito perché la cosa fondamentale per gli ortodossi era la capacità non di vedere il sacro ma di partecipare. E da questo punto di vista diventa quindi fondamentale il tema della luce. Il tema della luce è il tema, guardate che tutta la nostra mitologia, tutta la nostra filosofia e oggi possiamo dire anche tutta la nostra scienza prende le mosse dal tema della luce. All'inizio era la luce, Zeus è il genitivo di os che è il termine greco che sta per luce e quindi il problema della luce è il problema fondamentale della conoscenza. l'occhio umano vede attraverso la luce e vede in una maniera che è vincolata a un meccanismo ben preciso, il meccanismo figura sfondo. Cioè l'occhio umano per percepire ha bisogno di percepire delle differenze e di trasformare queste differenze in confini, in confini tra una figura e uno sfondo. e ne ha bisogno al punto tale, ecco le figure che sono state congegnate da quel Gaetano Canizza che ho citato prima, ne ha bisogno al punto tale che questi confini il nostro occhio tende a vederli anche se non ci sono. Le prime tre figure vi rappresentano dei triangoli rossi, bianchi o neri su sfondo nero o bianco e come vedete noi vediamo un triangolo rosso, un triangolo bianco o un triangolo nero anche se effettivamente questi triangoli non ci sono. E in un primo momento Canizza, sbalordito dall'effetto di queste sue stesse figure, pensò che il vedere il triangolo fosse il risultato della nostra tendenza a percepire la regolarità piuttosto che la irregolarità. E si chiese che cosa succederebbe se noi, ad esempio nella prima figura, non vedessimo il triangolo rosso sovrapposto a dischi neri e ad angoli neri? La nostra descrizione della figura sarebbe molto più complicata, nel senso che mentre possiamo dire vediamo un triangolo rosso sovrapposto a un triangolo nero e a dischi neri, se non vedessimo il triangolo rosso la descrizione della figura sarebbe molto più complessa. Ma siccome Gaetano Canizza era tra i pochi psicologi che avevano un'attitudine effettivamente sperimentale, trova subito un controesempio. E il controesempio è la quarta figura che vedete lì, che è una figura del tutto irregolare, che noi non sappiamo né denominare né descrivere, eppure vediamo ugualmente. Il che ci fa capire che l'elemento fondamentale sul quale puntare l'attenzione è il fatto appunto che noi per vedere abbiamo bisogno di vedere una figura che si staglia su uno sfondo. Abbiamo bisogno di attivare il rapporto figura-sfondo. Questo confine tra la figura e lo sfondo è quindi imprescindibile. Non ne possiamo fare a meno per vedere. La cosa che possiamo fare è spostarlo. E spostarlo genera diversi modi di vedere la stessa figura. Qui avete una classica figura ambigua in cui io posso giocare sul rapporto ambiguo appunto tra figura e sfondo e vedere, come tutti immagino vediate, o un suonatore di sassofono nero su sfondo lilla, turchese, che dir si voglia, e con una nuvoletta di fumo che è il risultato del suo respiro, o capovolgendo l'immagine una figura di donna su sfondo nero. E chiaramente il passaggio dall'uno all'altro è il risultato di uno spostamento della linea di confine tra la figura e lo sfondo che vedete, potete apprezzare meglio, in questo tipo di figura, detta la suocera nuora, in cui, come vedete, si capisce molto bene qual è il risultato dello spostamento del confine. Nel senso che per vedere la giovane, io devo mettere il confine tra figura e sfondo qui. Quindi il volto di profilo della giovane donna finisce qua e quest'altro, tutto quest'altro appartiene invece allo sfondo. Mentre invece per vedere la vecchia ho bisogno di spostare il confine della figura in basso e quindi di vedere come appartenente alla figura, questa è la bocca, questo quindi diventa il naso, questa è la bocca e questo diventa il mento, ho bisogno di vedere come appartenente alla figura ciò che prima invece consideravo far parte dello sfondo. per cui sostanzialmente cambia sposto il confine tra figura e sfondo e questo spostamento determina un modo diverso di vedere la figura. Quindi imparo una cosa fondamentale, cioè la percezione visiva mi fa capire una cosa fondamentale, cioè che per vedere ho bisogno di una linea di demarcazione tra figura e sfondo e questa linea di demarcazione o confine può essere fatta scorrere e quindi spostata in avanti o indietro ma mai eliminata perché se venisse eliminata verrebbe meno la nostra capacità di vedere. Ora la cosa interessante da questo punto di vista è che la ricerca scientifica nel suo sviluppo è arrivata esattamente agli stessi risultati e cioè la meccanica quantistica ha dimostrato in maniera anche qui assolutamente certa un risultato particolarmente aderente a questa prospettiva e cioè il fatto che ciò che noi osserviamo, il sistema osservato non può mai essere visto se non attraverso la presenza che non è passiva e che non è ininfluente ma che è attiva e incide sul processo di visione del sistema osservante. E questa linea di demarcazione tra lo scienziato che osserva e l'oggetto che viene osservato anche in questo caso può essere spostata in avanti o indietro ma mai eliminata. Allora in meccanica quantistica tanto per dire a seconda del tipo di strumento che lo scienziato attiva l'oggetto, lo stesso oggetto può essere visto come onda o come particella quindi esattamente come in questa visione l'oggetto cambia natura, diventa un'altra cosa a seconda di dove si colloca la linea di demarcazione e il confine tra il soggetto osservante e il sistema osservato e a seconda del tipo di strumento che lo scienziato attiva per vedere il sistema osservato. Questo elemento ci fa capire un fatto fondamentale e cioè che la visione è un processo attivo fatto esattamente come aveva intuito Leopardi di rapporto tra ciò che effettivamente vediamo e di supposizioni e ipotesi delle quali il nostro occhio non può fare assolutamente a meno. Ce lo dimostra quello che chiamiamo il punto cieco della visione. Quella piccola regione della retina a cui afferiscono i nervi ottici che non contiene alcun ricettore e quindi non può trasmettere nessuna impressione visiva. Quindi c'è un punto della nostra retina che è cieco. Noi non abbiamo però questa sensazione di lacuna del nostro campo visivo. E a che cosa si deve questa mancata percezione della lacuna? Al fatto che il nostro occhio sopperisce a questa lacuna interpolando ciò che effettivamente vediamo e completando ciò che effettivamente vediamo con ipotesi che fanno parte in maniera costitutiva dell'elemento e del processo stesso della visione. Per cui quando parliamo di processo della visione dobbiamo riferirci a un fatto e cioè al fatto che il vedere non contempla soltanto il riferimento a ciò che effettivamente c'è ma contempla anche la chiamata in causa di ipotesi relative a ciò che potrebbe esserci anche se di fatto non lo vediamo. E questo tipo di situazione è messo in particolare risalto dalla presenza di una rete che è stata scoperta nel nostro cervello recentemente grazie agli studi che permettono appunto le osservazioni non invasive del cervello in azione. Questa rete si chiama default mode network ed è una rete in cui il cervello pur essendo apparentemente completamente a riposo consuma energia come dimostrato dal suo metabolismo come se fosse in piena attività qual è l'attività del cervello sottesa a questo stato di apparente quiete? In questa situazione questa rete che cosa fa? Crea visioni, crea immagini, sogna ad occhi aperti, sviluppa strategie e quindi sostanzialmente fa un riassunto dell'esperienza che abbiamo avuto e sulla base di questo prospetta ipotesi di azione futura costruisce scenari attraverso la forza dell'immaginazione. Vedete che il concetto di visione doppia di Leopardi, percezione visiva più immaginazione comincia a diventare qualcosa di realmente concreto. Ma c'è un altro aspetto fondamentale, cioè immagino che non tutti voi abbiate studiato meccanica quantistica la cosa che posso dire è semplicemente questo che in meccanica quantistica vige un principio, quello di indeterminazione di Heisenberg in virtù del quale non è possibile misurare con la stessa precisione nello stesso istante posizione e velocità di una particella. Ora, come sapete, per disegnare la traiettoria di un oggetto io ho bisogno di conoscere la sua posizione e la sua velocità nello stato iniziale. L'impossibilità stabilita da un principio base della fisica che quindi non è il risultato di difetti della nostra conoscenza ma è una questione ontologica, cioè relativa alle realtà di fatto di misurare con precisione e contemporaneamente velocità e posizione ci impedisce di disegnare e prevedere la traiettoria dell'oggetto che stiamo studiando. E allora, di fronte a questa situazione, un grande fisico, premio Nobel della fisica Richard Feynman, dice se io devo calcolare la probabilità che un elettrone in una certa posizione iniziale A riappaia dopo un certo tempo in una o in un'altra posizione finale B occorre tener conto di quello che io chiamo la somma di tutti i cammini. Bisogna cioè considerare tutte le possibili traiettorie che l'elettrone ha potuto seguire per passare da A a B siano dritte, siano curve o siano zigzaganti il che significa che la scienza, se vuole parlare di un fatto concreto come la traiettoria di un elettrone deve prendere in considerazione tutta la sfera del possibile si deve riferire non solo a quello che normalmente la scienza chiama senso della realtà, ciò che effettivamente è avvenuto ma anche a ciò che chiamiamo senso della possibilità a ciò che potrebbe essere avvenuto e il fatto fondamentale è che la descrizione scientifica in meccanica quantistica non può fare a meno del riferimento a questo possibile e quindi il possibile diventa una componente fondamentale dell'ontologia badate bene non dei poeti e dei letterati ma degli stessi scienziati al punto tale che un poeta come Allen Ginsberg nel 1999 scrive una poesia molto significativa che tiene conto proprio di questi sviluppi della scienza solo lo scienziato è vero poeta ci dà la luna, ci promette le stelle ci farà un nuovo universo se sarà il caso un altro elemento di cui tener conto a proposito della visione e facendo ancora una volta appello a ciò che hanno intuito i teologi della scuola bizantina e ortodossa è la cosiddetta prospettiva rovesciata voi tutti avrete studiato arte sapete benissimo che nell'umanesimo a partire da Paolo Uccello con Pier della Francesca viene messa in atto questo straordinario strumento di dilatazione della visione che è la prospettiva con la quale si riesce a dare profondità e quindi l'illusione della terza dimensione anche a rappresentazioni fatte all'interno di una tela bidimensionale ma per fare questo come sapete le linee di fuga del quadro della rappresentazione devono essere tutte dentro il quadro dentro la rappresentazione visiva offerta dal quadro che cosa fa invece la rappresentazione iconica ortodossa propone quella che viene chiamata la prospettiva rovesciata in cui le linee di fuga anziché andare all'interno del quadro vanno all'esterno verso l'osservatore verso chi guarda perché? qual è l'obiettivo di questa prospettiva rovesciata teorizzata da un grande storico dell'arte e teologo come Pavel Florensky che scrisse appunto un saggio molto importante che si intitola Abratenea Perspettiva cioè la prospettiva rovesciata puntando la prospettiva verso l'esterno si mira a creare uno spazio intermedio in cui l'osservatore viene coinvolto e reso partecipe della rappresentazione che c'è nel quadro proprio perché come dicevo già prima per la teologia ortodossa è fondamentale che il sacro non lo si guardi ma che al sacro si partecipi e per partecipare bisogna che lo spettatore in qualche modo sia come se fosse proiettato dentro il quadro attraverso appunto la creazione di questo spazio intermedio e questo tipo di concezione è oggi talmente diciamo interessante che crea una rottura della asimmetria tra chi vede e chi osserva perché mentre nella prospettiva normale c'è qualcuno che osserva e che come sapete deve osservare da un punto ben preciso se no l'effetto di profondità viene in qualche modo attenuato e qualcosa che viene visto nella prospettiva rovesciata scompare proprio perché l'osservatore viene coinvolto nella scena scompare la distinzione e la simmetria tra chi osserva e ciò che viene osservato e anche in questo caso Giacomo Leopardi si fa perfetto interprete di questa anche se non conosceva ovviamente questi sviluppi della teologia ortodossa si fa pienamente interprete di questa rottura di simmetria ancora il canto notturno di un pastore errante dell'Asia che fai tu luna in cielo la luna fa la luna non viene osservata la luna diventa soggetto attivo che fai tu luna in cielo dimmi che fai silenziosa luna sorgi la sera e vai contemplando tu contempli non sono io pastore errante soltanto che contemplo te ma tu luna soggetto oggetto osservato contempli i deserti quindi guardi a tua volta indi tiposi qui il superamento della simmetria a simmetria e quindi della disuguaglianza tra chi osserva e chi viene osservato è certamente molto chiaro l'ultimo aspetto che voglio toccare e che riguarda da vicino anche nelle conclusioni che faremo l'idea di scuola che ne possiamo trarre è il fatto che la visione oltre che lo sguardo oltre che puntare verso l'esterno viene a partire da un certo momento nella seconda metà dell'ottocento con Freud e Jung puntata verso l'interno verso il proprio mondo interiore per la prima volta si guarda con occhi dilatati capaci di una visione potenziata il mondo interiore e si scopre in questo mondo una complessità maggiore di quella che si era immaginata fino a quel momento l'articolazione in inconscio preconscio subconscio e vita conscia di cui parla appunto Freud e Jung a questo proposito dice che l'uomo che guarda la propria interiorità è l'uomo che ha una capacità fondamentale quello di non perseguire come ideale la perfezione ma invece la completezza e completezza significa vedere il proprio mondo interiore prenderne atto prendere atto di tutti gli aspetti di luce ma anche di tutti gli aspetti di oscurità riconoscerli e accettarli e Jung fa sorgere così come risultato di questo sguardo puntato verso il mondo interiore l'idea dell'ombra che tratta in maniera molto articolata e precisa in quel suo straordinario diario che è stato pubblicato solo di recente che è il libro rosso in cui a un certo punto dice persino l'immagine di Dio ha un'ombra il senso superiore è reale e getta un'ombra infatti che cosa c'è di reale e di fisico che non abbia un'ombra l'immagine di Dio getta un'ombra che è grande quanto lui l'attribuzione anche a Dio della propria ombra vale a sfatare il luogo comune della negatività tucur di questa ombra essa al contrario un ruolo fondamentale e complementare a quello dell'universo interiore per cui il perseguimento dell'ideale della completezza significa che ciascuno deve essere capace di vedere la propria ombra di riconoscerla e di accettarla e la propria ombra è appunto l'inconscio questa capacità di vedere la propria ombra ancora e di nutrirsi delle energie psichiche interiori che in qualche modo sono il risvolto di quello che abbiamo chiamato il senso della possibilità che spesso si esprime e si materializza attraverso il sogno diventa un tema fondamentale anche della poesia al punto che i poeti cominciano a chiedersi che cosa sarebbe la vita di un uomo senza sogni o senza più sogni e questo è il tema fondamentale di una straordinaria poesia di Pascoli questa volta che è Alexandros Alessandro Magno il più grande re che abbia mai calcato il suolo della terra il più potente a un certo momento ha conquistato tutto quello che era possibile conquistare sulla terra giunge all'estremo limite delle sue conquiste e quindi della terra e così riflette giungemmo è il fine o sacro araldo squilla non altra terra se non là nell'aria quella che in mezzo del brocchiere vi brilla cioè il brocchiere è lo scudo e quindi non c'è più niente davanti non c'è più altra terra da conquistare azzurri come il cielo come il mare o monti o fiumi era miglior pensiero ristare fermarsi non guardare oltre sognare sarebbe stato meglio fermarsi e continuare a sognare il sogno è l'infinita ombra del vero il sogno è l'ombra del vero senza sogno non può esserci neanche verità senza sogno non ci può essere autenticità della persona umana e questo tema dell'uomo che non può sussistere senza sogno senza inconscio senza ombre senza immaginazione è trattata in modo profetico da uno scrittore Adelbert von Chamisso che nel 1814 scrisse uno straordinario romanzo l'uomo senza ombra nel quale immagina che un uomo qualunque in grandi difficoltà economiche a un certo punto della sua vita venga avvicinato da una persona apparentemente normale ma che in realtà nascondi il diavolo che gli fa il seguente discorso durante il breve tempo nel quale ho goduto della fortuna di trovarmi accanto a lei ho avuto modo mi permetta di dirlo di osservare diverse volte con inesprimibile ammirazione la bella ombra che lei con una certa qual nobile non curanza e senza farci caso proietta di sé al sole quella straordinaria ombra lì ai suoi piedi mi perdoni la richiesta che è certo sfacciata ma non sarebbe per caso disposto a cedermi questa sua ombra in cambio avrà ricchezze inesauribili il baratto ha dunque luogo il diavolo seziona l'ombra dal corpo del protagonista che a questo punto ha in cambio molte ricchezze si immagina una vita felice ma invece viene coperto dal disprezzo di tutti quelli che incontra che notando il fatto che è privo di ombra si allontanano inorriditi da lui per cui da quel momento in poi non può più avere una vita normale e questo romanzo ebbe un'importanza talmente forte che il tema dell'ombra pensate a Peter Pan pensate come dirò dopo a Pinocchio diventa un tema fondamentale della letteratura e dell'arte guardate questo straordinario quadro di De Chirico De Chirico riferendosi a una poesia di Montale che dice all'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro dice e fa male questo uomo di Montale a non curarsi dell'ombra perché ecco la riflessione di De Chirico che ispira a quadri come questi nell'ombra di un uomo che cammina nel sole ci sono più enigmi di tutte le religioni del passato del presente e del futuro e l'enigma qui si presenta in questo quadro sotto forma di quell'ombra minacciosa dietro gli edifici che attende la giovinetta che sta avanzando verso di lei con il suo cerchio questo tema dell'ombra dicevo ultima notazione diventa un tema fondamentale anche per capire attraverso appunto il riferimento alla completezza che è la completezza che deve essere nutrita anche dal riferimento all'ombra che cos'è la creatività in uno film non straordinario che è il Pinocchio il suo Pinocchio Benigni ha però come conclusione un'immagine assolutamente straordinaria una volta che Pinocchio è diventato un bravo bambino e quindi da Burattino si è trasformato in bambino in carne e ossa e si avvia ad entrare nella scuola senza subire le tentazioni di divagazione che l'avevano condotto a tutte le sue avventure a cominciare dal seguire il teatro di Mangiafuoco mentre si appresta ad entrare a scuola la sua ombra osserva delle farfalle che volteggiano nell'aria si distacca da lui Pinocchio dal bambino modello e si mette a seguire queste farfalle e il messaggio che Benigni ci vuole trasmettere è molto chiaro non può esistere il bambino modello senza il Burattino Monello che è l'emblema dell'indisciplina quella indisciplina che però è necessariamente rottura delle regole capacità di andare oltre ciò che viene semplicemente visto e pensato capacità di attingere il vedere e il pensare altrimenti e quindi espressione di quella creatività di cui abbiamo parlato lungo tutto il nostro itinerario quello che vi ho proposto fin qui il che ha come significato questo messaggio che vi vorrei trasmettere la creatività proprio perché capacità di pensare altrimenti e di vedere altrimenti rispetto alle regole è necessariamente indisciplinata e un uomo completo non può esistere senza l'indiade l'unione profonda tra il bambino modello e il burattino monello senza una convergenza tra senso della realtà che è aderenza e disciplina e senso della possibilità che è necessariamente capacità di andare oltre le regole e quindi in disciplina creativa vi ringrazio ringraziamo il professor Tagliagambe per questa bellissima conferenza e credo che abbia messo diciamo molta carne al fuoco e dia a tutti la possibilità di poter intervenire e di discutere un po' dei temi che il professor Tagliagambe ha sottolineato la chiarezza dell'esposizione penso che sia stata esemplare e l'ultimo appello che ha trasmesso attraverso la sua conferenza è quello relativo a questa uscire dagli schemi cercare di uscire per trovare in ognuno di noi la propria creatività ecco la creatività è l'uscita un po' dai temi e io direi che per giovani come voi una provocazione di questo tipo diventa un elemento importante abbiamo una diecina di minuti perché poi ci sarà il cambio di sala e quindi alle 11 e mezzo c'è un'altra conferenza per cui ecco chi si vuole fare sotto alzi la mano e vediamo chi è che ha una domanda prego forse forse è meglio perché sennò non si sentirebbe magari lo facciamo di qua mi chiamo il mio brunetta vengo da Lecce la ringrazio perché lei mi ha fatto ascoltare della musica meravigliosa come se avessi sentito un grande pianista e così via cosa non ho sentito come diciamo vocabolo nella sua bellissima trattazione che ha fatto il vocabolo coscienza se è possibile avere un aggancio a quanto lei ha detto con il significato di coscienza grazie si guardate è molto opportuna questa domanda perché il problema della coscienza e l'analisi della coscienza rimanda al modo in cui si costruisce il nostro rapporto con la realtà esterna e sempre più emerge come elemento fondamentale di questo rapporto con la realtà esterna la convergenza fondamentale di cognizione ed emozione altro termine di cui a cui non ho fatto riferimento e che va invece introdotto in un libro di Edoardo Boncinelli che è qui insieme a noi che di questa festa è stato uno degli ideatori che si intitola Mi ritorno in mente Battisti rivisitato si dice a un certo punto che oggi noi ci rendiamo conto che non potremmo in nessun modo avanzare nel nostro rapporto non sostanto con la nostra realtà interiore ma neanche con il mondo senza tener conto del rapporto fondamentale tra concezione tra cognizione ed emozione e questo rapporto è importante perché nel momento in cui noi abbiamo un qualunque tipo di contatto con la realtà esterna dicono oggi i neuroscienziati marchiamo lo chiamano proprio marcatore somatico cioè registriamo questo rapporto con una reazione da parte del nostro corpo di tipo emotivo che può essere positiva o negativa e in questo modo costruiamo un archivio di relazioni con la realtà esterna a cui si accompagna inevitabilmente un segno emotivo positivo o negativo cioè il bambino che si avvicina al fuoco e si brucia marca questa sua esperienza di contatto con il fuoco attraverso una impressione di dolore che genera un'emozione negativa per cui non avrà bisogno di ripetere tante volte questa esperienza gli basta quella marcatura emotiva per evitare di ripetere questa esperienza e catalogarla come esperienza negativa da non ripetere o almeno da non ripetere in quei termini quindi la nostra coscienza appunto è il risultato di contatti continui con il mondo esterno e di reazione a questi contatti che generano appunto questi segnali di marcatura emotiva positiva o negativa naturalmente da questo punto di vista il problema di fondo che emerge è un problema estremamente interessante perché fa intervenire ecco la capacità dei poeti di leopardi di pascoli di quelli fa intervenire come elemento fondamentale della percezione visiva oltre all'osservazione diretta oltre alla capacità di vedere altrimenti e quindi di nutrire la visione con l'immaginazione anche le emozioni con le quali noi reagiamo alle percezioni visive di qualunque cosa con la quale entriamo in contatto per cui sostanzialmente nella percezione visiva ecco perché ringrazio chi mi ha fatto la domanda perché permette di introdurre un terzo attore di cui non avevo parlato ma speravo sul fatto che mi venisse fatta una domanda di questo genere nella percezione visiva entrano come componenti fondamentali almeno tre attori e cioè la percezione diretta la visione vera e propria attraverso gli occhi la visione attraverso l'astrazione e quindi l'immaginazione la capacità di vedere e di percettivare il possibile e in più le reazioni emotive che accompagnano ogni nostro atto percettivo e cognitivo e lo colorano in senso positivo o negativo guardate che la cosa importante interessante e fondamentale è che ci si rende conto sempre più che questa capacità di estendere lo sguardo all'altrove e all'altrimenti diventa una componente fondamentale della scoperta scientifica ieri il professor Battiston nell'apertura di questa festa ha fatto una cosa straordinaria che merita di essere per chi non c'era merita di essere in qualche modo ha esaminato tre film di fantascienza in particolare Interstellar dell'anno scorso ha sottolineato il fatto che alla sceneggiatura di questo film ha partecipato in maniera determinante il fisico alla cui intuizione sperimentale si deve la recentissima scoperta delle onde gravitazionali ulteriore conferma della teoria della relatività generale di Einstein e ha fatto vedere attraverso spezzoni di questo film come in questo film sotto la guida di questo fisico ci sia una rappresentazione visiva rigorosa di cose come ciò che succede all'interno di un buco nero o ciò che o come si presenta il famoso tunnel o cunicolo che all'interno del mondo quadrimensionale può collegare in maniera più veloce tra di loro punti lontani dello spazio-tempo e Battiston sottolineava il fatto che la dilatazione dello sguardo proprio esattamente come è successo con Galileo e con il Siderio Snuncius la dilatazione dello sguardo non dei soli scienziati ma di ciascuno di noi resa possibile proprio dal fatto di rendere visibile l'invisibile e di renderlo visibile in maniera corretta è uno dei presupposti fondamentali della scoperta scientifica perché la scoperta scientifica parte sempre da una capacità di dilatare lo sguardo di andare a vedere cose che prima erano inaccessibili o considerate inaccessibili al nostro sguardo per cui sotto sotto questo aspetto il problema di fondo è che diventa fondamentale il rendersi conto che le strategie tutte le strategie comprese quelle della visione ma quelle poetiche quelle letterarie e via dicendo che in qualche modo comportano questa capacità di estensione del nostro vissuto della capacità di percepire sono il presupposto fondamentale appunto della scoperta scientifica voglio a questo proposito aggiungere soltanto una cosa ho esordito dicendo portando l'esempio del leone e dicendo che la percezione visiva si nutre di induzione deduzione e abduzione come risulta da quel tipo di visione ebbene tenete conto di un fatto ben preciso un fatto quello che viene considerato la più perfetta delle teorie scientifiche fino ad oggi prodotta e cioè la teoria della relatività generale di Einstein di cui l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della visione della scusate formulazione nel momento in cui fu formulata 1915 non aveva nessuna osservazione e nessun esperimento a sostegno tutti gli esperimenti a sostegno della validità di questa teoria sono successivi alla sua formulazione l'ultimo come ho detto di pochi giorni fa questo che cosa vi dice che quella forza dell'immaginazione di vedere e pensare altrimenti non nutre soltanto le fantasie dei poeti e quindi ci trasmette immagini straordinarie che dilatano il nostro orizzonte ma è anche alla base di scoperte scientifiche fondamentali alla sua teoria Einstein è giunto soltanto attraverso la forza dell'immaginazione e la capacità di vedere e pensare altrimenti il mondo che ci era stato consegnato dalla fisica galileiana newtoniana a dimostrazione del fatto che quando si parla di endiadi tra percezione e immaginazione tra senso della realtà e senso della possibilità non ci si riferisce soltanto a una creatività intesa in modo generico ma ci si riferisce in modo specifico anche a quella creatività che alimenta ed estende la nostra conoscenza scientifica del mondo è per questo che i film fatti bene che le immagini poetiche ben riuscite tutto ciò che dilata l'orizzonte della nostra percezione visiva è anche uno strumento fondamentale di arricchimento della nostra conoscenza se c'è qualche ragazzo che un intervento di tre minuti lo esaudiamo se non c'è nessuno mi pare che i ragazzi si stanno alzando si i ragazzi già si stanno alzando allora grazie per aver partecipato vi ricordo per chi volesse ancora seguire il professore che terrà un'altra conferenza sabato 16 aprile presso il palazzo giusti orfini e il tema sarà un nuovo rapporto terapeutico medico paziente l'armonia tra corpo mente e psiche quindi continueremo su questo discorso grazie